Ah, Nick? Oh, Puppe! Puppe, 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 Puppe! Ah, Ted! Ho andato a fuoco! Sono arrabbato! Sto precipitando! Ah, scusate, ma devo andare in bagno. Ce l'ho fatta. Perché sono tutti così ossessionati dai sei? Vi piacerebbe se noi fissassimo sempre i vostri uccelli? Sarebbe fantastico. Il pene di Nick è come quello di un neonato. Ah, perché sono allo scoperto? Non cresco, evidentemente c'è qualcosa che non va. Siamo una coppia di stramboidi. Mia madre dice che la vera bellezza è nell'anima. Anche il tuo colon è carino, pieno di merda. Non credo che ai ragazzi interessi la nostra intelligenza. Dovete darci tutte un taglio. Viviamo già in una società fissata con l'immagine femminile e psicologicamente... Abbasso il femminismo! Non posso essere arrapato e anche un bravo ragazzo. Vergogna, vergogna! Chi sei? L'aspetto della vergogna! Oh, cazzo! Un, due, tre! I genitori della mia amica stanno per divorziare e lei ha bisogno di tirarsi sul morale. In camera tua! Sono già in camera mia! Sparisci dalla mia vista! Ben! Ottimo! È stato bellissimo! Nessuno punto! Voglio soltanto essere normale. Oh, mio Dio! Nick ha palpeggiato Gina! Stiamo spetticolando! Oh, hai! Che cosa hai detto, scusa? Tu sei una... Questa è vodka, Maurice! Ehi, l'abbiamo per essere sfacciato! No! È il mio pelo! Scaricami nella tazza. Non voglio che qualcuno arrivi e dica... Un pelo pubico! Addio! Non lo dimenticherò mai! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'info box e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite! Ciao!